ok ci siamo benissimo allora direi che riprendiamo e cerchiamo di fare quello che dicevamo prima abbiamo una lunga strada di fronte a noi che fondamentalmente arriverà fino alla fine del corso perché da adesso in poi praticamente parliamo solo più di react qualche puntatina, sospetti di javascript che abbiamo un attimo lasciato indietro come il disk e queste cose però diciamo fondamentalmente siamo su react quindi siamo nel cuore di quello che dobbiamo fare faremo una puntata sul server per imparare a scrivere l'api lato server al bisogno nel momento in cui ne avremo bisogno e fondamentalmente però siamo qui quindi oggi, adesso, nella prossima ora e mezza impariamo qualcosa in più su JSX se l'abbiamo intravisto abbiamo detto sì è tipo html però cos'è che effettivamente si può fare non si può fare perché funziona e così via quindi, allora questa è la visione concettuale di quello che fa react cioè react ha tre tipologie di elementi, di oggetti quindi chiamiamole oggetti anche se sapete che è il tipo dell'oggetto in javascript per modo di dire react ha degli elementi che sono fondamentalmente ciò che viene mappato sul DOM reale quindi sono gli elementi che di fatto compongono il virtual DOM e che corrispondono ai tag del DOM reale e si pensa a react poi a farli aggiornare questi elementi sono organizzati in un albero che è questo element tree che ovviamente è composto di elementi noi in react possiamo definire dei componenti che sono definiti tramite delle funzioni cosa fanno questi componenti? ritornano degli alberi di elementi un albero, anzi scusate non degli albero un albero di elementi è importante dire uno perché ne possiamo ritornare solo uno vedremo che questa è una piccola implicazione quando scriviamo il codice ogni tanto dobbiamo fare attenzione questo albero viene agganciato da react tramite il gsx che noi scriviamo al punto dove noi decidiamo di metterlo noi prima abbiamo scritto minore componente e questo è html l'unica cosa si vede al posto del nome del tag si vede il nome del componente quindi avendo presente che in react esistono questi tre tipologie di oggetti i componenti che sono quelli che creiamo noi e poi gli elementi e gli alberi di elementi possiamo andare a parlare di tutto il resto quindi andiamo a parlare di come di fatto andare a usare queste funzionalità di react che sono quelle di creare nuovi elementi tramite i componenti e di renderli visibili di farne render di consentire di ritornare quei pezzettini di interfaccia utente di cui dicevamo prima però lo facciamo senza usare queste funzioni nelle slide trovate tutta la descrizione delle funzioni che è ciò in cui il jsx viene tradotto automaticamente perché poi io devo far girare nel browser del codice javascript il browser non capisce il jsx il browser capisce il codice javascript ma noi questo codice javascript non lo vedremo mai noi vediamo cioè lo intravediamo adesso nelle slide che passiamo molto velocemente ma verrà creato per noi a partire dal jsx quindi un elemento di react è un oggetto che descrive un componente o un nodo DOM con tutte le sue proprietà e quindi ci dà a disposizione la gestione delle props quindi ci dice di che tipo è quali sono le proprietà e gli eventuali figli che ha è solo una descrizione non è un oggetto del DOM reale è una descrizione che andrà di fatto a far parte di quel virtual DOM che poi viene tradotto da react automaticamente nel DOM reale ok lo possiamo creare col create element ma come vi dicevo noi non lo faremo mai con queste funzioni ma lo faremo tramite jsx per cui queste slide io ve le lascio come riferimento quindi se uno deve capire perché una cosa funziona in una certa maniera si può riferire a queste funzioni che prendono certi parametri qui sono tutti descritti ma noi ragioneremo sempre i termini di jsx quindi devo sapere di che tipo è l'elemento quali sono le sue props e quali sono i children siccome io passo props qui come oggetto questa ha l'implicazione che certi nomi di proprietà non si possono usare io non posso scrivere class uguale come attributo di un componente perché class è una parola chiave in javascript la posso scrivere in html ma in javascript no perché è una parola chiave così come non si può scrivere for perché è un'altra parola chiave mi serve per fare i cicli for quindi c'è un aggiustamento dentro react che quando bisogna scrivere un class lo devo scrivere sottofondo di class name e for html for perché il jsx viene tradotto in codice javascript e non posso scrivere class due punti in un oggetto provate in node e viene fuori errore perché è una parola chiave come non potete chiamare una variabile for in c stesso ragionamento quindi il fatto che sotto ci sia del javascript significa che non abbiamo proprio la libertà di fare tutto tutto quello che vogliamo nel jsx e questo è un esempio non possiamo scrivere class uguale come attributo come non potremmo scrivere for uguale che per ogni tanto ci servono perché class è la maniera di dare una classe css a un elemento html quindi devo in qualche maniera poterlo scrivere allora chi ha fatto react ha pensato di chiamarlo class name ok va bene i children quindi tutta la lista dei figli che possono essere cioè che devono essere collegati a questo elemento va bene abbiamo già visto questa convenzione che gli elementi DOM classici sono tutti minuscoli invece i nostri componenti i componenti anche creati da altri quelli del react bootstrap sono scritti con l'iniziale maiuscola ok io vi invito a uniformarvi a questa convenzione per questi dovete perché sono già pronti e sono già a disposizione quindi dovete fare così perché react li ha fatti così gli altri dovete diciamo vi invito fortemente a farlo perché così si capisce subito se un componente è un componente che quindi è stato definito da qualcuno sotto forma di funziona oppure qualcosa che è già interno a react e che quindi è già pronto disponibile ed è di fatto la mappatura in react del elemento html del DOM ok i vari tipi di elementi possono essere combinati tra loro ma l'abbiamo visto prima noi abbiamo fatto un div dentro abbiamo messo un button e così via li componete tra loro ok e allora parliamo un po' del JSX che è una sintassi alternativa a usare quella funzione del create element che abbiamo visto prima bisogna fare attenzione a scriverlo bene cosa vuol dire? vuol dire che dobbiamo scrivere dell'html ben formato cioè se apriamo un tag lo dobbiamo chiudere se non lo chiudiamo il traduttore JSX protesterà subito abbiamo una certa maniera di scrivere gli attributi quindi i più semplici sono le stringhe però possiamo mettere anche altri valori come facciamo a mettere altri valori usiamo la sintassi javascript perché javascript? perché alla fine viene tradotto in javascript semplicemente con le graffe ciò che è dentro le graffe è un'espressione javascript da valutare secondo le regole di valutazione di javascript quindi automaticamente c'è qualcuno babelo non so forse forse in vita adesso c'è un'altra cosa comunque a noi non interessa qualcuno un traduttore che ce lo trasforma nel codice javascript che noi neanche vediamo perché avviene tutto dentro e viene fornito direttamente al browser se andassimo a scavare nel codice javascript che vediamo dentro il browser potremmo andare a cercarlo ma non lo facciamo perché tanto c'è una corrispondenza diretta tra il gsx e questo codice ok i componenti includono degli element tree quindi cioè quello che noi facciamo ritornare da un componente dalla funzione quello che scriviamo nel return deve essere un element tree uno uno solo ok quando c'è bisogno react invoca la funzione per sapere qual è l'element tree che renderizza che visualizza il componente così come noi lo vogliamo e lo fa invocandolo con le proprietà che tutto il resto dell'applicazione ha deciso di passargli prima abbiamo passato lang il linguaggio itn a seconda di cosa passavamo veniva ritornato un gsx piuttosto che un altro quindi qui diciamo un element tree piuttosto che un altro ok questa operazione react la porta avanti finché ha risolto la visualizzazione il render quindi il return di tutti i componenti per i quali qualcosa è cambiato nelle proprietà all'inizio ovviamente lo farà per tutti però dopo lo farà solo per quelli in cui è cambiato qualcosa nelle proprietà e va avanti fino a che ha trasformato tutto in elementi dom di base perché alla fine i nostri componenti io non posso scrivere my button nel html del browser deve essere trasformato in un elemento html di base input type button o button o qualcosa che insomma ho deciso io scrivendo il jsx ok noi possiamo usare il jsx in qualsiasi punto del nostro codice javascript perché ricordate noi stiamo scrivendo codice javascript e lo possiamo mettere in qualsiasi punto dove un'espressione javascript sarebbe sinteticamente valida il punto tipico dove lo mettiamo è nel return ok lì daremmo un valore valore di ritorno di una funzione del create element di quello che vogliamo possiamo scrivere il jsx perché viene sostituito con del codice javascript la cosa interessante è che essendo codice javascript che ci dà un valore quindi un riferimento a un oggetto un array eccetera lo posso mettere dove voglio in javascript quindi posso mettere il jsx anche come valore di una proprietà di un oggetto di un array e così via ok quindi posso farne cosa voglio lo posso anche racchiudere tra parentesi tonde perché è un valore come javascript è un valore e posso trattarlo come un valore qualsiasi se ci metto due tonde intorno posso farlo ok ecco devo ricordarmi che i tag che non hanno elementi figli quindi se il div ha qualcosa va bene ma se il tag non ce l'ha devo chiuderlo ok devo chiuderlo quindi o metto il tag aperto poi il tag chiuso e niente in mezzo oppure c'è una sintassi più compatta dell'html che è quella di mettere lo slash alla fine del primo tag per dire che non ci sono elementi figli se non lo faccio di nuovo il traduttore jsx javascript protesterà ok non è così tollerante come sono i browser ma meno male perché così diciamo ci evita potenziali problemi quindi se io nel mio bottone non ho elementi figli devo comunque chiuderlo ok in questa maniera con la sintassi classica javascript questo per esempio succede che so sui tag img avete presente l'html avete provato ad importare un'immagine c'è il tag img src uguale url dell'immagine eccetera chiuso chiuso e basta qui non funziona img c'è lo potete usare va benissimo ma bisogna mettere slash maggiore perché senza lo slash rimane un tag aperto e questo non posso farlo ma comunque li incontrate ma una mano che li incontrate vi dice il tag non chiuso vi viene in mente lo chiudete avete risolto il problema ecco occhio solo che i componenti non sono elementi html di base quindi come abbiamo fatto prima vanno resi visibili nello scope cioè vuol dire che se sono in altri file vanno importati se sono in quel file lì non è un problema sono altre funzioni sono visibili finito se però sono in altri file vanno importati come abbiamo fatto prima col button peraltro vi ho messo online il codice quindi se qualcuno vuole andarlo a vedere c'è il codice online ma è quello delle slide quindi niente di particolare quindi ogni tanto vi dirà il componente non c'è forse è dimenticato di importarlo e vabbè e allora aggiustato attributi del jsx allora abbiamo detto che possiamo scrivere delle stringhe molto semplici avete le virgolette doppio singole fa lo stesso se volete mettere delle espressioni jsx quindi diciamo tutto ciò che non sia una stringa dovete farlo usando le graffe ciò che è dentro le graffe per il jsx è un'espressione da valutare come javascript quindi può essere un semplice numero può essere un riferimento a un oggetto un array o qualsiasi altra cosa anche del codice da eseguire quindi potete per esempio avere anche per dire un'espressione condizionale classica warning uguale debug si grey altrimenti red ok ovviamente cercate di limitarvi in quello che scrivete perché chiaramente a parte che deve essere un'espressione quindi non è che potete scrivere chissà cosa però più codice scrivete in questa maniera più il tutto diventa un po' incomprensibile per cui diciamo che tipicamente il massimo del codice che scriviamo sono queste espressioni condizionali relativamente semplici testiamo una variabile e facciamo una cosa o un'altra ecco se abbiamo bisogno del valore booleano occhio che non possiamo scrivere virgolette true non possiamo scrivere uguale true perché non vuol dire nulla ma dobbiamo metterci graffe true ok così graffe true è il valore booleano true di javascript così se avessimo bisogno del null undefined che però diciamo sono un po' più un po' più rari perché perché se passo qualcosa di solito voglio un valore non voglio un undefined ecco ciò che viene inserito tra i tag chiuso e aperto viene passato ai componenti al componente tag come props children ok sostanzialmente questo ci dice che noi possiamo scrivere espressioni annidate che contengono javascript e jsx e viceversa annidandole fin che vogliamo ok perché ciò che è dentro viene valutato come codice javascript l'importante è ricordarsi solo di mettere le graffe al punto giusto cioè quando apro un'espressione javascript nel jsx devo ricordarmi di metterci le graffe cioè non posso scrivere ul log di news punto interrogativo eccetera se non apro la graffa non si capisce più che quello che viene dopo non è testo ma è un'espressione javascript da valutare però nel momento in cui apro un'espressione javascript qui dentro posso metterci dell'altro jsx come è stato fatto qui ha fatto minore e questo è jsx king javascript normale non posso mettere minore così con un nome di qualcosa ok questo jsx è tutto diciamo lecito ok un'altra cosa che devo sapere del jsx è che tutto ciò che si va viene valutato undefined null o falso non verrà renderizzato e questo ogni tanto è comodo per scrivere delle espressioni condizionali e far apparire o scomparire del jsx a seconda del valore di una variabile no anziché mettersi lì if return else return oppure caricare tutto dentro una stringa c'è una stringa una variabile che poi non è veramente una stringa su questi oggetti jsx e diciamo caricarli piano piano a seconda di quello che devo fare posso posso scrivere delle espressioni molto idiomatiche di javascript come queste se user level è uguale admin allora il valore di questa espressione è il valore di ritorno di render admin menu ok qui chiamo una funzione questo non è un componente perché così ho deciso ok poteva anche metterci minore admin menu slash maggiore ok e sarebbe stato il jsx se prendi quel componente mettilo lì si poteva fare ok per dirvi che posso combinare le cose come desidero ma vedrete che vi viene poi naturale insomma è abbastanza intuitivo da questo punto di vista ecco nei componenti dovete fare attenzione che se il vostro componente che definite può avere dei componenti figli dovete renderizzarli esplicitamente tramite props children con le graffe ok questo ogni tanto può capitarvi quando fate esperimenti per conto vostro fate il vostro componente poi ci mettete un altro componente dentro e non viene fuori perché perché nella definizione del vostro componente se non avete renderizzato props children quindi non avete messo nel return non viene fuori ok quindi questo da ricordarselo spesso facciamo dei componenti che non hanno componenti figli come quelli che abbiamo fatto prima prima abbiamo fatto dove abbiamo fatto il nostro button questo button fa tutto da solo fa un button non c'è nessun componente figlio da mettere quindi qui il problema non si pone se però voi volete fare un componente più generico che magari fa da wrapper da contenitore con dell'altra roba dentro eccetera dovete fare attenzione a questo aspetto va bene ok ecco degli attributi un po' particolari ve l'ho già detto prima bisogna fare no vi ho detto del del class ci sono quelli binari tipo input disabled selected e così via soprattutto nei form una volta bisognava mettere specificamente un valore quindi uguale aperta graffa true uguale aperta graffa false ultimamente nelle ultime versioni di react sono diventati un po' più tolleranti nel jsx è diventato opzionale quindi se c'è selected funziona come l'html perché cercano di semplificare semplicemente per questo ok se non c'è l'attributo ovviamente avrà di default il valore falso ma questo diciamo abbastanza scontato commenti commenti sono un po' particolari non funziona il commento html perché non è html è codice javascript se voglio commentare apro il contesto javascript apro una graffa e ci metto il commento del codice javascript slash asterisco il commento c ok così come c'è scritto si è brutto è vero è brutto è una rogna però è così ok quindi quando dovete commentare un pezzo di javascript di jsx scusate o graffa slash asterisco e chiudete dove dovete chiudere oppure oppure lo cancellate e fate undo poi non lo so fate quello che volete ma non si può mettere asterisco cioè slash asterisco nel jsx ok ci abitueremo ce ne faremo una ragione ogni tanto ci sono delle piccole cose da sapere ma diciamo che queste fondamentalmente potete imparare la strada facendo per esempio se volete mettere uno style lo style è un attributo un po' particolare prende un oggetto e quindi siccome noi dobbiamo passare un oggetto dobbiamo aprire una prima graffa che è quella rossa per dire che è javascript e una seconda graffa per dire che è un oggetto e quindi devo metterci il valore come proprietà valore all'interno dell'oggetto perché poi posso mettere virgole e mettere altre proprietà ok non posso scrivere virgolette eccetera come scriverei nel html puro ok bisogna solo saperlo i valori delle proprietà css sono camel case eccetera ma qui cercate un pochino e avete risolto i problemi ok ecco noi abbiamo fatto tanta introduzione sul codice javascript abbiamo visto anche alcuni operatori un po' particolari per esempio lo spread ricordatevi che vi può tornare particolarmente utile in questi casi props è un oggetto quando il vostro componente riceve l'oggetto props voi potete lavorarci su e usare l'operatore spread per copiare l'oggetto quindi anche se s8 qui funziona perché tanto poi c'è il traduttore eccetera diciamo noi possiamo usarlo tranquillamente quindi se possiamo usare un oggetto e passarlo come una serie di attributi al nostro componente possiamo isolare una certa proprietà estraendola dall'oggetto ok quindi se props contiene kind due punti qualcosa è un'altra proprietà altra proprietà eccetera io voglio solo estrarre kind e poi prendere tutte le altre e passarla ad un altro componente o elemento posso farlo lo posso fare in maniera molto semplice vedete che la sintassi è abbastanza intuitiva i tre puntini diciamo così sono o elenca tutto oppure metti il resto dentro a questa variabile ok infatti l'avevamo chiamato rest non perché il resto ci viene comodo ok quindi tutta quella sintassi javascript che abbiamo imparato vedrete che piano piano ci torna utile vi torna utile nel momento in cui cominciate ad avere un po' di proprietà è chiaro che se c'è un'unica proprietà non è che c'è tanto di codice da scrivere però ogni tanto cioè l'applicazione poi a un certo punto si complicherà un po' ci saranno tanti componenti avete bisogno di passare delle proprietà attraverso dei componenti questo pass through e vi può tornare utile usare questi sistemi ok si class class name html c'è il for html for le entities bisogna un attimo fare attenzione comunque potete sempre dichiararle come stringhe ok quindi le stelline che abbiamo messo nel laboratorio piuttosto che altri elementi oppure se avete a disposizione l'icone volete usare metterle come icone sono icone sono elementi html potete anche usarli in quella forma lì sta a voi decidere ok quindi questo è un po' il riassunto del jsx ricordarci che quando ci serve javascript dobbiamo aprire le graffe e quando apriamo le graffe abbiamo del javascript e dobbiamo fare attenzione a quello che ci stiamo scrivendo dentro e anche il jsx di fatto viene tradotto in javascript per cui non possiamo usare certi 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 attributi class è l'esempio più classico come facciamo una volta che abbiamo il jsx a creare i componenti cominciamo con i componenti più semplici l'abbiamo già visto prima e adesso lo facciamo in un esempio avete visto che un componente è una funzione che prende un parametro solo props ok questi sono i componenti React e forse React piace tanto anche perché scrive i componenti è così facile scriviamo una funzione diamo un nome con la lettera maiuscola per ricordarci che è il nostro componente prendiamo props e ritorniamo degli elementi che possono essere altri componenti possono essere degli elementi di base dell'html e così via che poi in realtà sono quelli del virtual DOM che React mapperà sul DOM ok quindi componente prende props e ritorna un elemento tree per la verità quindi può ritornare solo uno adesso poi vediamo come fare quando ce n'è più di uno quindi sono funzioni possiamo definirle con scritto function possiamo farle come arrow function se siete patiti delle arrow function di solito a me piace la seconda scrittura function perché è un po' più esplicita si vede subito dove inizia il componente ma per javascript è la stessa cosa non è che l'esame cambia nulla se è fatto in una maniera o nell'altra dobbiamo ritornare un element tree devono essere funzioni pure ed impotenti cioè non è che potete scrivere var qualcosa lì dentro questa è una cosa allucinante che ogni tanto ho visto all'esame che non è che possiamo bocciare tutti non è che vi porterà la bocciatura ma vi porterà sicuramente a un voto verso il basso anche perché se avete messo var lì dentro non avete capito tanto react quindi probabilmente ci sono anche tutta una serie di altri problemi no dico var perché var diventa una variabile globale quindi mi fa uno stato al di fuori della funzione e quello che viene fuori della funzione se uso questo stato fuori non controllato da react mi trasforma una funzione da una funzione pura a una funzione che a seconda di quando la eseguo secondo il valore che c'è lì dentro mi dà un risultato diverso e rompe tutto il meccanismo di react perché react si basa sul fatto che passo le stesse props e viene fuori la stessa cosa e quindi non la chiamo se non la chiamo è perché sono sicuro che mi viene fuori la stessa cosa se questo aspetto viene rotto da come scrivete il codice non avete più la garanzia che funzioni nulla in react ok poi avremo bisogno dello stato l'abbiamo già visto c'era lo stato del bottone italiano inglese cosa avevamo messo non è che non si può mettere lo stato perché in un'applicazione che non si può mettere lo stato giochichiamo con del codice e basta però c'è una maniera per metterlo in maniera controllata in maniera che react lo sappia lo conosca ce lo ricostruisca quando deve sappia quando cambia e così via quindi dobbiamo fare molta attenzione a come gestire lo stato e lo faremo ci sarà una lezione o più più di una lezione dedicata a questo però gli altri componenti che non usano lo stato devono essere funzioni pure dato lo stesso props deve uscire lo stesso risultato ok se no non funziona più nulla o per sfortuna massima funziona ma non è garantito che funzioni sempre poi all'esame è il momento tipico in cui prima funzionava e dopo non funziona ma non si vogliono vedere lo stesso bisognava che noi mettessimo tipo cercare tutti i var che ci sono non deve esserci un var nel vostro progetto ok nelle librerie sarà pieno ma nel vostro no ok perché non dovete averne bisogno perché il nostro approccio non prevede di avere variabili globali ok ok perché questo è la filosofia di React è fatto così ok abbiamo deciso di usare React e usiamo questo approccio perché chi ha pensato React ha deciso che questo approccio questa modalità di funzionamento ci semplifica di come gestire la la scrittura è la visualizzazione e il rendering dei componenti ok è normalissimo avere tanti piccoli componenti non spaventatevi se fate tanti componenti senza esagerare nel senso che se faccio una tabella magari mi faccio il componente tabella mi faccio il componente riga ok senza andare a fare il componente casella no perché a meno che le caselle non abbiano un significato particolare nella nostra applicazione non è che tipicamente mi serve il componente della casella della tabella no quindi un normale trade off un po' come in un codice che scrivete voi non è che fate ogni tre righe fate una nuova funzione no fate una funzione che abbia un senso compiuto che faccia un'operazione e qui la stessa cosa un componente visualizza un pezzettino della vostra interfaccia che abbia un senso che sia un po' come dire self content quindi diciamo sia sia un po' indipendente dal resto non completamente perché non sarà quasi mai però diciamo sia un pezzetto significativo non è troppo piccolo non è troppo grande la vostra applicazione ovviamente meglio li scrivete più diventeranno riusabili che è anche un po' l'obiettivo del framework potervi come nel codice che scrivete in generale avere delle funzioni riutilizzabili perché oggi fate un progetto domani ne fate un altro e se avete che so il componente che vi gestisce la visualizzazione di una lista lo potete riutilizzare in un altro progetto se è sufficientemente generico passate cosa volete visualizzare una props quindi quello diventa una props un po' il parametro del componente e quel componente si incaricherà di farvi vedere una bella lista magari potendola chiudere aprire limitare in lunghezza con un altro attributo insomma come scrivete una funzione in cui decidete voi i parametri scrivete dei componenti in cui decidete voi gli attributi ok ultima cosa poi andiamo nell'esempio nel JSX posso inserire delle espressioni che siano degli array di elementi e questo è molto utile perché appunto se no dovrei come dire mi verrebbe difficile renderizzare liste di elementi ok quindi elementi allo stesso livello nella gerarchia del virtual DOM come faccio? è molto semplice React automaticamente si accorge che ciò che abbiamo messo come espressione in javascript è un array e quindi va a prendere ogni elemento dell'array e lo spacchetta e lo mette allo stesso livello nel suo virtual DOM che poi prende converte e porta nel DOM reale per la visualizzazione ok quindi ovviamente l'array c'è ok dobbiamo metterlo nel punto corretto e chiaramente deve contenere delle cose che siano ragionevoli per il JSX quindi deve contenere fondamentalmente dell'altro JSX quindi guardiamo questo esempio che poi andiamo ad applicare perché ci facciamo la lista delle domande quindi facciamo la struttura con i componenti e ci facciamo la nostra lista di domande che è appunto una lista che faremo con un array quindi questo componente number list prende come props prende le props perché questo è il componente React la definizione di componente React estrae numbers che ho deciso io l'ho chiamato io numbers quando chiamo il componente scrivo io attributo numbers uguale sono io che ho deciso che si chiama numbers potete chiamarlo numeri lista numeri quello che mi pare l'importante è che lo so li estraggo e poi creo una serie di elementi uno per ogni elemento dell'array li list item con il suo valore come faccio vi ricordate la programmazione funzionale l'abbiamo vista apposta questa map che troverete in lungo e in largo nei vostri progetti ma in tutti i progetti React serve a partire da un array quindi a partire da dei valori a creare un nuovo array quindi questo un nuovo array con dentro qualcosa derivato da ognuno di quegli elementi dell'array di partenza quindi io prendo il valore dell'array di partenza che mi viene messo nella callback numbers e ritorno che cosa il jsx di quello che voglio creare per quell'elemento e mettere in quella casella dell'array quindi qui abbiamo incrociato un posto dove abbiamo finalmente messo in un array un qualche cosa che è appunto un jsx che è questo questo vi ricordo è un arrow function la arrow function se non mettiamo return ritorna il valore dell'unica espressione che abbiamo messo dopo la freccia e questo valore in react può anche essere un jsx ok perché in realtà viene convertito poi in javascript quindi è un riferimento ad un oggetto e poi abbiamo il nostro array che contiene diciamo così in ogni casella un jsx lo passiamo qui come valore react capirà che è un array cioè come fa chi è curioso glielo racconto ma è una questione di javascript che abbiamo un po' trascurato e vedrà che ci sono degli elementi jsx li mette uno dietro l'altro tutti allo stesso livello annidati dentro ul unordered list quindi lista non ordinata e quindi quando chiamiamo app qui è scappata la f maiuscola che deve essere minuscola va bene questa è l'app normale quella che ci ha creato il template e noi facciamo return number list il nostro componente che non abbiamo bisogno di importare perché l'abbia scritto sopra e passiamo un attributo numbers che abbiamo deciso noi di chiamarlo così con il valore che abbiamo deciso noi che io ho messo qui per comodità perché in questo momento non ho altro modo se non mettere un valore fisso dentro la mia funzione quindi ho fatto un cost di un array e chiuso che è quello che farò tra poco con il cost dell'array delle risposte gli oggetti risposta perché in questo momento non abbiamo alternativa poi quando andiamo avanti questa cosa eventualmente la portiamo in uno stato la carichiamo dal server e così via però per ora è nel codice come avete fatto nello scorso laboratorio avevate un array con la lista dei film e creavate gli oggetti via via qui cominciamo così concludo questa slide ricordandovi che questa cosa non funziona cioè funziona ma da un warning da un warning che non è da ignorare ossia tutte le volte che c'è una lista di elementi in react devo aggiungere un attributo apposta che si chiama key chiave key con un valore unico per quella lista questo perché perché react ne ha bisogno per far funzionare in maniera efficiente l'algoritmo che verifica le variazioni quindi quando si confronta il virtual DOM vecchio col nuovo se c'è questa chiave si fa molto prima se ho 4 valori non è un problema ma se ne ho 10.000 react va se ha le chiavi non ha bisogno di espandere gli elementi dell'array quindi se la chiave è uguale decide che è uguale ok perché io adesso ho messo li ed è un jsx semplice ma potrebbe essere una struttura molto complicata quindi qualcosa di complesso e che se non ho la chiave va valutato quindi ma noi comunque diciamo così quando creiamo la lista assegniamo una chiave unica ad ogni elemento della lista che deve cambiare solo se cambia l'elemento della lista qualcosa nell'elemento della lista ok in un caso semplice così ci basta un identificativo 1,2,3,4,5 in un caso reale tipicamente una chiave unica è quella che ci viene fornita dal database server che ci garantisce l'unicità di un identificativo di un oggetto di qualcosa che noi vogliamo visualizzare e così via ok quindi occhio che l'unicità è richiesta solamente sulla stessa lista per cui non ne deve essere unica all'interno dell'applicazione che sarebbe una cosa complicatissima da ottenere perché se l'applicazione diventa complessa diventa difficile ma solo all'interno di quella lista perché serve solo a questo scopo a capire se qualcosa è cambiato e le chiavi purtroppo non sono disponibili come props nel componente per scelta di react quindi se ho bisogno di sapere questo id devo passare a un secondo attributo che allora diventa disponibile come props all'interno dell'elemento dell'array quindi in parole povere cosa vuol dire? vuol dire che nel codice di prima devo fare return ue no qui nella freccia li chi uguale qualcosa e questo qualcosa come faccio a determinarlo devo trovare un valore unico qui l'esempio è talmente banale che non ha neanche senso parlare di valore unico quindi io qui la risolvo con virgola i number virgola i li chi uguale graffa i chi usa graffa ok perché prendo l'indice 0 1 2 3 4 e sono sicuro che è unico però diciamo questo esempio è molto artificiale è una lista di numeri non posso usare il numero perché il numero se io avessi dei valori ripetuti non è garantito essere unico ho bisogno di un valore unico ok ultima cosa andiamo all'esempio ogni tanto ho bisogno di ritornare da un componente più di un elemento ma io ho detto che il componente può solo ritornare un albero di elementi con una sola radice quindi devo partire da un unico elemento e se ne ho due beh c'è chi di voi dirà metti un div no metti un div su questi tag che consente di raggruppare gli elementi un div in più in meno tanto trasparente è diciamo va bene però se in quel punto dell'applicazione magari non si può mettere il div siete dentro una tabella dentro i td dentro gli elementi della tabella non si possono mettere i div e così via c'è un elemento speciale creato da react allo scopo si chiama react punto fragment ma nessuno scrive così tutti scrivono così cioè minore maggiore vuoto e questo fragment che serve di fatto a raggruppare più elementi del jsx in un unico elemento padre che fa da radice ok ci capiterà dovrebbe capitarci dopo forse di doverlo usare occhio perché poi vi da errore se voi fate un return con un tag aperto chiuso poi ne aprite un altro e così via vi da errore il ovviamente l'esecuzione ma anche l'ambiente il viso studio code e così via cosa c'è che non va cosa c'è che non va manca solo questo fragment dovete sempre solo avere un'unica radice ok allora dedichiamoci all'esempio se è tutto chiaro se non ci sono domande io ho messo online in realtà ho copiato come faccio spesso in accordo con il mio collega del corso in inglese questo questo esercizietto che in realtà non dice nulla di speciale creiamo un progetto react prendiamo quello che abbiamo fatto finora lo facciamo diventare una pagina react quindi ce la facciamo servire da un server e trasformiamo un po' degli elementi che abbiamo visto abbiamo inserito nella nostra pagina in componenti react così facciamo esercizio partiamo dall'html lo trasformiamo in jsx pensando mano a mano che facciamo questa operazione a come potrebbero essere strutturati i componenti della nostra applicazione allora facciamo quindi io il my app lo chiudo e a questo punto chiudo questo quindi l'esecuzione questo è il server sta sempre attivo fino a che io non decido di chiuderlo ctrl c oppure q questo è il server web diciamo fornito con l'ambiente di sviluppo del byte che è quello che abbiamo usato prima per creare l'applicazione react allora torno nella mia cartella wick 06 e creo un'altra applicazione dunque com'era era create si eccolo qua create right latest latest cosa diceva react qa il nome che gli date non ha alcuna importanza determina solo il nome della cartella notate che questa volta non ci riscarica byte perché l'ha già scaricato se l'è tenuto da qualche parte e adesso mi chiede voglio react voglio javascript svc cd react come prima nulla di nuova npm install e poi faremo npm run dev vediamo solo che sia tutto a posto qui sono di nuovo i 50-60 mega da scaricare forse forse è una specie di cache non so però dobbiamo attenere che faccia questa cosa ecco c'è già qualcosa che non va interessante questa non è mai uscito da prima era questo che succedeva al vostro collega vediamo proviamo a riscaricare byte quindi byte va a finire se siete su linux va a finire nella cartella .npm della vostra home directory tilde la vostra home directory ok proviamo a ricreare tutto quindi cancello react qa l'avevo provato ieri come dite l'esame l'avevo provato funzionava però devo risolverlo no poi può anche darsi che qualcuno nel frattempo ok lo riscarichiamo può anche darsi che nel frattempo questi pacchetti per qualche motivo qualcuno li aggiorni e si capitano nel momento sfortunato in cui non funziona più l'epm install vediamo se poi va la prossima volta se ricapita se è una cosa sistematica cercheremo online come fanno tutti come fate anche voi se è un problema questo è un problema mi sa che ha camminato qualche pasticcio questo è un test andiamo un po' a vedere cosa ci raccontano su internet che devo dirvi questi appgisver non esistono sapete che poi ci sono quelli che fanno i dispetti nei repositori npm c'è stato uno che ha cancellato sarei stufato di mantenere un pacchetto ha cancellato della roba npm cache clean meno meno force boh nemmeno un po' eppure e se no sviluppiamo nell'altra applicazione non è un'ideona che mi piaccia tanto però allora no lasciamo lasciamo qui facciamo paste va bene vediamo un po' se adesso mi install va giù se no cercheremo un hack faccio ancora poi una pro a copio no vediamo cosa dice questo facciamo così allora copiamo il my app vediamo se ci funziona semmeno r forse non era grande non so più my app poi dobbiamo cambiare il nome dell'app act qua vediamo un po' la scomodità di fare queste operazioni e che poi finisce che com'è eh anche eh si si immagino ma secondo me è un problema del dell'npm quello vabbè name non dovrebbe importarci se no andiamo dentro l'altro non facendoci eh ma facendoci di my app non installiamo nulla nel senso che non abbiamo il package json è il bello di voler programmare live e poi se è tutto relativo forse funziona però vediamo un po' se funziona npm run dev open si sembra di si allora cosa ho fatto ho preso il my app che andava che purtroppo però voi non avete perché non avete il node modules e se fate l'npm install non so se vi funziona se vi funziona se scaricate il my app dal git e fate l'npm install funziona potete prendere copiare tutto incluso il node modules quindi cambiare nome e cambiare il nome dentro il package json e fondamentalmente visto che i percorsi sono relativi dovrebbe funzionare tutto ho copiato ho copiato anche le librerie vecchie e dall'altro progetto in quello del nuovo progetto perché secondo me si è rotto qualcosa nel sistema di installazione di calcolo delle dipendenze si ha trovato la soluzione però è un problema di svc è un problema di svc ecco ci hanno rotto qualcosa questo questo è un problema purtroppo che può capitare quando quando si scala tutto dalla rete finisce che qualcuno prima o poi rompe qualcosa ma è come quando avete il whatsapp che non funziona o facebook che non si apre si spera che qualcuno prima o poi lo metta a posto se no dovete appunto partire da qualcosa che avete e funziona e sperando che si possa fare ma per fortuna è abbastanza ben fatto e quindi abbiamo il percorso i percorsi relativi per cui noi copiando tutto quanto cambiando semplicemente il nome dell'applicazione dovremmo riuscire ad andare avanti ok però una volta che avete scaricato che avete creato il progetto se se appunto non hanno distrutto le versioni già installate che avete installato con l'npm install dovreste essere a posto e poi se invece non ce l'avete ancora dovete aspettare che ne mettono a posto va bene allora non perdiamoci che già abbiamo poco tempo quindi che faccio adesso adesso io ho la mia solita applicazione quindi io sono dentro my app non mi serve più react qua app.js è esattamente quella di prima che io ho già modificato quindi in questo senso mi va bene ma anche mi va male perché mi piaceva partire dal g6 va bene dai va bene così allora l'abbiamo provata quindi si è aperto no? quindi qualcosa sta funzionando a questo punto cambiamo cosa ritorna app e che facciamo ritornare ad app ad app facciamo facciamo così cancelliamo tutto avevamo la nostra vecchia applicazione quindi io l'ho messa dove l'ho messa? qua sotto no l'ho messa qua il qua html dell'altra volta no? non sto inventando niente sto solo prendendo tutto quello che c'è nel body ok? quindi questo mouse è un po' quindi prendo tutto quello che c'è nel body div eccetera lo porto in app jsx cioè sto facendo quello che farete prima o poi in laboratorio prendete il vecchio codice html che avete sviluppato e lo trasformate piano piano in componenti di react all'inizio non ci sono componenti di react ok? quindi adesso salvo si lamenterà syntax error va bene ok input vedete input non è chiuso quindi andiamo giù cominciamo a sistemare i vari errori vedete input tutti i tag vanno chiusi quindi devo metterci slash come l'img va chiuso oggi metto minore slash input maggiore ma non serve a niente perché input non si aspetta un testo in mezzo oppure li devo chiudere poi piano piano correggiamo tutti gli errori ok? adesso risalvo cosa ha fatto questo vediamo se mi ha fatto vedere diciamo c'è una bozza di sito è già qualcosa ok? apro la console abbiate sempre la console aperta quando sviluppate in laboratorio i miei colleghi mi hanno detto vedo sempre lì a guardare su sto browse cosa c'è che non va non c'è il miracolo c'è la console la console ha dentro un sacco di messaggi che vi possono aiutare ok? perché? perché adesso cosa c'è che non va? adesso c'è che nel momento in cui stiamo ha trasformato il jsx in codice javascript quindi a questo punto si ha nel browser il browser esegue il codice javascript se c'è qualcosa che non va ce lo dice la console javascript del browser ok? la prima cosa che ci dice invalid DOM property class per caso volete scrivere class name è già che voglio scrivere class name abbiamo detto prima non si può scrivere class allora quindi qui sarà pieno di class uguale facciamo che che faccio un cerca e sostituisci che facciamo un po' prima replace se ho scritto bene class uguale faccio class name uguale ok? quindi li cerco si cosa si schiaccia per sostituire forse questo vero? quindi li trasformano tutti in class name non c'è alternativa se voglio tenere i div cioè se voglio scrivere class è così che devo fare sono andati tutti si ok salvo torno nel browser allora ricarico la pagina non ci capisco più niente non è estremamente indispensabile però tr non può apparire come child come figlio di table aggiungere un tbody thead o tfoot ok? ci sono regole molto strette su come costruire questo albero del virtual dom ok? perché? perché poi react ha bisogno di fare questi confronti in maniera molto rapida efficiente e per cui si impone abbastanza parecchie restrizioni io il tbody non l'avevo messo cos'è il tbody il thead diciamo dice che una parte di tabella è la parte di header che sarà opzionale e l'altra parte è il body ok? quindi io li metto così lo faccio contento thead avevo l'header ovviamente devo aggiustare il tag e poi metterlo al punto giusto di chiusura tbody e prendere il resto e aggiustare salvo se voglio riformato quindi aggiusto un po' ok allora ricarico perché voglio vedere se ci sono altri errori ok adesso non dice più nulla diciamo che questa è la versione 1 un po' grezza perché cosa c'è? c'è un componente app ritorna tutto il gsx che è equivalente a quello di prima ho solo sistemato i problemini class, class, name e così via si chiamiamola pure applicazione react ma fondamentalmente ho scritto un html dentro react allora cominciamo a isolare qualche pezzettino e farli diventare un componente ok? per esempio l'header per dire perché l'header deve stare qui dentro e non può essere un componente a parte magari nell'header oggi non metto nulla però domani ci cambio quello che ci scrivo no? proviamo a fare un componente proprio operativamente allora html va benissimo insomma dov'è? cosa ho schiacciato? ne combino sempre uno ah si ho fatto undo redo era la formattazione ok allora questo html io lo prendo questo mouse non funziona lo prendo e lo tiro via lo metto dentro un mio componente come faccio a fare un componente function nome del componente props function mio header my header lo chiamo my header giusto perché non vi confondiate con l'header html solo per questo props non mettiamo se poi non usiamo props non fa niente return putto e virgola ok e qui nel buco cosa metto? my header slash mi raccomando perché aperto chiuso sennò protesta di nuovo allora salvo l'applicazione cosa è cambiato? non è cambiato nulla non deve cambiare nulla non ho fatto niente di speciale ho ho creato un componente per per il titolo ma il dom resta uguale perché alla fine una volta che il componente viene trasformato col suo render nei tag html quelli di prima è uguale a prima ok se voglio posso posso schiamare due righe guardate così props punto app app name punto interrogativo anzi no facciamo così and end ip overrun ok adesso cosa ho scritto? ho detto che dentro h1 ci metti il valore dell'espressione javascript perché ho aperto le graffe nel jsx e se c'è app name valorizzato in prop usi quel valore se è undefined come in questo caso usi ip overrun ricordate che commerciale commerciale vuol dire no scusate forse era l'altro oppure ip overrun ok non sbagliato allora riproviamo vediamo se ho fatto giusto è sempre come prima se però io adesso ci faccio app ne app ne name uguale la mia app ok ho passato un attributo che viene passato come props al componente la props non è più undefined ha un valore e viene usato ok quindi ho realizzato il mio primo componente leggermente flessibile nel senso che prendo una props che ho definito io ho deciso io che questa props si chiama app name e se non gli do un nome avrà il suo nome di default questo ip overrun altrimenti avrà il nome che io ho deciso di metterci e che passo come props ok tanto per fare una prova così abbiamo provato una props in un componente se no avevamo solo spostato del codice html fondamentalmente quindi non è che avevamo fatto chissà cosa ok vabbè potrei fare la stessa cosa col footer per ora lo lascio un attimo da parte ci concentriamo sulla parte più interessante che è la tabella anche perché il tempo è sempre tiranno quindi facciamo la tabella function table my table facciamo my table props allora my table return metto sempre la tonda perché se vado a capo mi metto il punto e virgola dopo il return questo è javascript se no devo scrivere la prima cosa sulla stessa riga mi da un po' fastidio ma voi potete fare quello che desiderate allora prendiamo il nostro codice della table tutto e lo spostiamo sopra come abbiamo fatto prima procediamo sempre per passi nel senso che è inutile che noi stiamo a fare tante modifiche e proviamo alla fine perché poi allora my table chiuso quindi salva e andiamo a vedere se non si è rotta è già un buon segno ok ma c'è il my table come faccio a sapere se c'è il my table ho il debugger di prima components up my header my table ok quindi c'è non sto guardando una cosa diversa che possa più capitare così ok va bene allora adesso abbiamo spostato il table in un nostro componente cerchiamo di fare una table un po' più decente dunque allora prima di tutto ecco facciamo una table in cui passiamo gli elementi da mettere nella tabella e come li passiamo sotto forma di array no? passiamo un array di elementi per ora li abbiamo scritti tutti quanti no? cioè un po' scomodo no? ovviamente la potenza del codice va dispersa così allora dobbiamo prima di tutto averli e come facciamo ad averli andiamo a prendere oh no non ho preso il codice dobbiamo andare a recuperare e recupero la soluzione up li recupero dal codice javascript della volta scorsa io avevo già del codice scritto che adesso riporto nella mia app fuori dai componenti adesso fuori dai componenti lo metto all'inizio qui c'è una function answer che era la funzione che mi ero fatta per poter fare new answer e creare degli oggetti diciamo di tipo answer anche se come sempre la storia del tipo di javascript è un po' relativa e poi avevo la answer list che avevo usato per costruire la lista quindi le varie righe della mia tabella no? allora se è rotto no? bene qui cosa ho fatto? function answer è un componente function answer è una funzione che avete scritto il codice javascript potete scrivere il codice javascript che volete ok? quasi sempre finirà che metteremo le funzioni dentro le altre però diciamo che in linea di principio se non prendo una props e io non la uso col minore eccetera non c'è nulla di male posso scrivere tutto quello che mi pare nel codice javascript non le vars come vi dicevo prima però di per sé il resto del codice in questo momento non ho altra maniera di diciamo di scrivere del codice per creare dei dati che non sia questo ok? i dati in un'applicazione vera mi arriveranno dal server però ci servono un po' di lezione quindi in questo momento c'è answer list che ha un array di oggetti che hanno delle proprietà la prima è text la seconda è respondent eccetera eccetera quindi se io li passassi come props a my table posso in qualche maniera usarli per creare effettivamente la lista delle righe sotto forma di jsx sì spero proviamo allora my table devo decidere un nome di un attributo che non so cosa scriviamo decidete pure voi ma fa lo stesso nel senso che dove sta come l'avevo chiamato listovans giusto per farvi vedere che il nome può essere diverso listovans perché questo nome di attributo sono io che lo decido sono io che sto creando il componente my table non è un componente già fatto il il button di react bootstrap è già fatto e il colore si mette col variant perché così hanno deciso qui sono io che decido il nome dell'attributo come decido i parametri da passare una funzione listovans uguale graffa perché codice javascript perché una variabile javascript cos'era answer list ok in questo modo listovans diventerà una props che io qui posso usare quindi nel tbody potrò a questo punto avere props listovans answers a disposizione che arriva dalle props nelle props ci sono gli attributi default che ci saranno già eccetera più tutti quelli che ho definito io che ho passato io quindi io qui ne ho creato uno l'ho passato e lo ricevo in props props listovans questo è un array è quello di prima l'array cosa ne faccio abbiamo visto sul slide ad esempio creiamo un nuovo array che contenga il jsx della riga ho messo il punto giusto perché così faccio ritornare tr td eccetera e nei td metto i campi le proprietà dell'oggetto che sto scorrendo nell'array quindi map cosa ho bisogno di una callback che prende l'elemento freccia e e e qui scrivo il jsx tr poi td quello che c'è sotto solo opla solo che ogni volta metterò il valore che mi interessa una era la date ok td questo è il singolo elemento no sto facendo una map in e c'è il singolo elemento c'è date poi come ho chiamato text uff sto computer ne ha sempre una text format no non è format respondent td questo lo buttiamo via td e score e poi mi faccio il mio button che posso tranquillamente ricopiare da sotto quindi perché perché tanto non ha nulla da cambiare no ok e questa è già la lista io ho un array la map torna un array abbiamo detto prima l'array che fa viene espasso e ogni elemento viene posto allo stesso livello sotto il tbody come figlio ok quindi tutta la roba di sotto sparisce perché adesso la genero lascio l'ultima riga che era era il erano erano di forma ok funziona non funziona ancora c'è qualcosa da sistemare eh quindi allora proviamo ho salvato si ho salvato non funziona eh andiamo a vedere cosa c'è che non funziona qui sono sui components ma si è piantato prima eh e devo cercare dove è andata la console è sparita la console day.js is not defined urgh usavo day.js come faccio? lo installo lo installo e lo importo eh quindi chiudo 4c o q npm install day.js spero che non ci abbiano rotto day.js prego eh dovrebbe essere abbastanza rapido non basta installarlo come facevate require in in come si chiama in in node bisogna fare l'import qui eh per ora vi guido io import day.js from e day.js ok eh relativo assoluto eccetera poi ne parleremo è al momento buono quindi salvo riprovo mi manca qualcos'altro sì mi manca attivare il server certo se non attivo il server perché ero uscito per installare run dev quindi apriamo quindi questo via ah ehi te te cosa ho fatto questo è una stringa se io voglio l'espressione javascript il valore dobbiamo mettere graffe eh ok se no scrivo e text se scrivo ciao ci scrivo ciao ma non è il valore della variabile ok quindi di per sé stava funzionando ma non era quello che volevo quindi salvo di nuovo piantato sarà sempre così eh ma questa scenetta l'ho già provata ieri quindi dovremmo arrivare alla fine eh loading failed perché loading failed no qualcosa dovrebbe cominciare a sputare fuori se non mi da un errore comincia a diventare lunga eh ok child dovrebbe avere una key va bene ma questo è un warning però eh per ora lo lasciamo per ultimo e eh questo invece è un problema più grosso no questo è un errore l'oggetto non è valido come non è un react child cioè non è non può essere convertito in nodo react cioè non è un elemento html cioè non è testo è un oggetto io devo dargli dei testi delle stringhe cos'è lo riconoscete eh questo qui è questo qui è quello che viene fuori un oggetto con queste chiavi questo è il djs eh perché edate è un oggetto non posso dare degli oggetti qui devo dare delle stringhe o dei valori numeri eh non so se il true viene convertito format y y m dd risalvo oh mi resta il problema del key che adesso è l'ultimo che sistemiamo ok quindi ci rimane solo più un warning e il resto è andato ma il resto notate sta caricando dall'array che io ho scritto nel codice javascript questo qui non è più roba scritta a mano eh andiamo a mettere questo questo key così vediamo dove lo mettiamo abbiamo detto sul primo figlio eh perché l'array è dtr poi è anni data c'è dell'altra roba anni data eh ma se l'array è javascript devo metterci questo key e che ci scrivo qui però qualcuno ha un'idea eh ricordate che la callback della map non a caso ci passa una serie di altri parametri il secondo è l'indice il terzo è l'array ok allora index e io me la sfango molto rapidamente con l'indice nell'array in un'applicazione vera questi dati arrivano da un server saranno una riga in un db con un identificativo unico mi faccio dare quell'id dal db ce l'avrò nell'oggetto e lì c'è e.id è chiuso in questo momento solo l'array nel codice e più di questo non posso fare ok andiamo a vedere se è andato tutto a posto spero di sì sì ok quindi abbiamo trasformato abbastanza bene la nostra applicazione cioè la nostra pagina html in un'applicazione react che adesso ha due componenti l'header e la table ovviamente lo più sofisticato è la table perché riceve un array lo processa ci lavora sopra eccetera ok vi lascio da fare per casa per modo di dire nel senso che vi metto poi la soluzione online la trasformazione del di questi elementi in elementi di elementi html in elementi del react bootstrap perché qui abbiamo div container flow div class name row eccetera eccetera esistono i container i call row esistono le table eccetera già fatte i react bootstrap ok quindi dobbiamo prenderli andarceli a importare cosa che è già stata fatta qui parzialmente ma non usati sostituirli così avete diciamo diciamo una cosa tutta coerente di per sé così funziona non cegnete che non funzioni però per esempio questi qui sono i form classici html non sono quelli di bootstrap che sono più carini rotondi il date picker di bootstrap e tutte queste cose qua no quindi abbiamo fatto questa come dire esperienza io adesso faccio il commit di questo poi aspettiamo che mettano a posto questo problema di svc ma conto che lo mettano a posto abbastanza rapidamente e 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 questa applicazione è per conto vostro per provarla dovete solo fare npm install ok il create è solo se partite da zero e create la vostra applicazione perché per il resto è già tutto predisposto una volta che uno vi da un'applicazione su cui lavorare va bene se non ci sono dubbi o domande direi buona pasqua giovedì non ci siamo è chiuso è già tutto chiuso per le lezioni e ci vediamo il giovedì dopo pasqua per lezione registrata ma sarà lezione quindi venite tutti alle 8.30 grazie